buongiorno amiche questo è il video dove vi mostro tutti i miei regali di natale del 2022 allora è un video in collaborazione con delle mie amiche e vi taggo sotto nell'info box guardate in questo maxi borsone c'è tutto ora vi mostro tutti i regali sto qui con Noemi che è in pigiama perché adesso ci siamo svegliati oggi è il giorno di Natale e Noemi vi vuole far vedere primo regalo è questo kit di Clinique da Daga all'interno troviamo la Master Eyes 72 ore o di più mi sembra che la nuova Master Eyes 100 ore a bella bout questo qua della Clinique che è bellissimo e qui l'altro regalo è questa l'agenda del 2023 che non avevo ero scarsa poi poi ve ne parlo perché sto preparando delle cose per quanto riguarda la diciamo l'organizzazione del 2023 di questo nuovo anno poi un paio di ciglia finte questo è il numero queste sono di Uda Beauty poi abbiamo ancora ancora sì dice il numero 19 e questo così ragazze e poi questa che è il numero 16 sono bellissime sono le mie ciglia finte preferite in assoluto questo cerchietto che uso quando faccio le maschere quando mi trucco bla 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 mi spugna bellissimo veramente bello questo qui è il protettore in cheratina per i capelli ragazzi è una mano santa mi sta aiutando tantissimo a crescere i capelli poi questo è il correttore di Uda Beauty pazzesco ragazza una conferenza pazzesca l'applicatore l'applicatore che vedete di metallo e fa anche l'effetto per sconfiare le borse le borse le borse sotto agli occhi abbiamo borse poi questo che è una linea di come si chiama sto brand stamp e balsami di maroc coconut milk di il brand e ragazze comunque a farlo vedere una cheratina un altro cocco e sono degli champi e balsamo che no vicino a me sono gli champi e balsami che avevamo trovate da Douglas le tinta labbra di Uda Beauty ne sono ben tre no si tre vado a vedere l'altra la prima è questo colore babbo natale si è confuso ragazzi no in realtà questi sono le cari di zietta ma quale babbo natale Uda Beauty e fa vedere questo invece è una matita per sopracciglia a Noemi ok faccelo vedere le matite di Uda Beauty tutto sembrano tanto che matite mi sembrano bacchette magiche queste matite per le sopracciglia hanno un pack pazzesco ragazze non fa niente rompio tanto comunque a me serve il prodotto all'interno quanto è bella sembra una bacchetta magica è bellissima mi piace tanto il pack di Uda Udi Uda Uda Poi ancora una tinta questo è un colore strong lo so ti sei fatto lo shampoo? si ieri questo è un colore strong lo so non fare la maniaca dei capelli lei da piccola diceva mamma se pensavo tra i capelli ti sei fatto lo shampoo questo praticamente è nera è un colore è vero particolare però in estate in qualche evento in una sera particolare a me piace poi questo è Olaplex a vicino a vicino a vicino a vicino e più verso la Fidocam Olaplex hai ricevuto il computer da Babbo Natale Olaplex numero 3 questo è Miss Dior è il mio profumo preferito raga bello e ragazze questi erano i miei regali di Natale ma adesso vi faccio vedere no non c'è altro ma adesso vi faccio vedere i regali delle bambine vabbè Noemi ha ricevuto allora mio amico 50 euro il bonus di Scene di 30 euro poi il computer lo facciamo vedere qui dentro ci sono 50 euro il bonus di sconto di Scene come potete vedere allora ho ricevuto la borsa con 50 euro all'interno e anche il buono il buono per soldi e il buono di Scene per farsi un ordine su Scene e poi un buono di 30 euro più 50 euro più la borsa e il portatile pc mentre le bambine vi faccio vedere in diretta perché ormai hanno già aperto tutto ah no forse il forno a microonde fai vedere il forno? il forno è l'unico giocattolo che nella prossima clip non vedrete ma ha ricevuto anche il forno a microonde che funziona davvero ora vi faccio vedere in anteprima la reazione delle bambine quando hanno aperto i regali di Babbo Natale e che succeda? mamma mia abbinina mamma mia abbinina mamma mia abbinina questi sono stati tutti i miei regali per questo Natale 2022 ah c'è anche un altro regalo per aver dire no 2022 questi sono stati e amiche questi sono stati tutti i miei regali di questo Natale 2022 ne dimenticavo uno importante ma è quello che sto usando per filmare questo video ed è la GoPro 10 che ho ricevuto da mio marito e quindi questo era veramente tutto io vi mando un bacio e noi ci vediamo al prossimo video ciao ragazze ciao 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 ciao